Vi recensisco questa Ciao sono Barbara Sì, sì, sono quella delle LOL Bentornati nel canale Oggi faccio un video che è in collaborazione con Temu È una... Vi faccio vedere una cosa che ho preso Che mi ha mandato Temu Ed è bellissima Allora, la desideravo da un sacco di tempo Molto probabilmente l'avrete vista nelle pubblicità E avrete sempre pensato Che carina, chissà se funziona, chissà com'è Parliamo di questa stampantina Esiste anche in formati un po' più seri Quindi rettangola tipo questo Questo che hai disegnato sulla scatola C'è anche così quadratina Ma io non potevo non prendere questa Con l'animalino kawaii E con le orecchiette Ovviamente manca a dirlo rosa Quindi vi faccio vedere Che cosa mi è arrivato nel pacchetto Quindi che cosa comprende la confezione E vi faccio vedere come funziona Ma veramente Vi posso dire Che è veramente una cosa carina Quindi buon video Ovviamente mi sono scordata di dirvi Che vi dovete iscrivervi a questo canale Perché se no Che ci sto a fare qui Quindi mettete like Iscrivetevi Magari mandatelo a qualcuno Condividetelo Non lo so Andatemi Supportate Supportate Il canale Grazie Ok E veniamo al packaging Questo è il pacchetto Che ho ricevuto Così come si presenta Dietro ho notato Che c'è un omaggio Ci sono dei pennarelli Che io non pensavo Arrivassero insieme Alla stampantina Bene così So che state notando Che ho lo smalto diverso Ma questa parte di video L'ho girata prima Della seconda parte Ci sono due pacchetti Di rotolini di carta E la scatolina Con la macchinetta Perché due pacchetti Perché questo qui È di adesivi Quindi sono rotolini sticker E questo invece Sono rotolini di carta normale Quando acquistate la stampantina Controllate bene la dotazione Perché alcune hanno i rotolini Alcune no Alcune ne hanno uno solo Alcune ne hanno tanti Quindi il prezzo cambia Prendete quella più conveniente Questa è la scatolina Ci sono tutti i modelli segnati Tutte quante le Diciamo la parte frontale Io ho scelto quella Con un animaletto rosa Quindi i modelli sono molti Se non volete la bestiola Potete tranquillamente Sceglierne una più sobria Io onestamente Non potevo Non prendere questa Con la faccina Perché mi sta tanto simpatica Ok Questa appunto È la mia Noto già che c'è Della carta all'interno C'è in dotazione Un cavetto per la ricarica È una macchinetta Piuttosto moderna Perché vedo che il cavetto È quello C Quindi non è un Vecchio mini USB Ma è un cavetto C Si accende Con questo tastino laterale Aspettate Dov'è questo qua Ok Una volta che l'avete accesa Vedrete una lucina blu E quindi capirete Che la vostra stampantina È accesa Va collegata al bluetooth E scaricata l'app Per cambiare Le cartucce Si schiaccia qui E avrete il cassettino Con la vostra carta C'è già un rotolino In dotazione Va messo in questa posizione Con la linguetta Verso il basso Se lo mettete a rovescio Non stamperà niente Cioè uscirà il foglio Completamente bianco Quindi se vedete il foglio bianco Niente panico Girate il rotolino E tutto sarà Perfettamente funzionante Ma adesso cominciamo Per prima cosa Bisogna scaricare l'app In questo caso si chiama Fanprint Ma penso che ogni stampantina Abbia la sua Di riferimento Comincio da picture Posso Selezionare un'immagine O scattarla Ho deciso di scattarla E non so se vi ricordate O se conoscete Questa fanciulla Comunque voglio fare La foto a Lollina Scatto la mia foto Dopo averla messa a fuoco E posso decidere L'angolazione La misura E l'intensità Dello chiaroscuro Questa è la stampata Ovviamente non vi immaginate Una foto effettiva È carta termica Quindi non sarà Come una fotografia Però l'immagine c'è Alla fine Se fate foto tra amici Secondo me Rimane un bel ricordo Stamparsi qualche momento Dal telefono E passiamo alla prossima funzione Ossia la scansione del testo Sì perché questa app Riconosce i testi scritti Tipo su un libro Forse anche a mano Proverò Partiamo da un libro Ho preso il mio Già che c'ero Ho preso il diario incantato Allora prendo una pagina E vediamo Come la scansiona Potrebbe essere Veramente molto utile Per dei libri di scuola O delle tabelle O per copiare Delle parti importanti Da un libro Magari prima di una verifica Non si fa Non lo copiate Comunque l'importante Che non facciate questo errore Vedete che io ho lasciato Un pochino della riga A sinistra Ecco Quando fate una pagina di libro Dovete prendere solo La pagina di libro Altrimenti Il programma leggerà Anche le lettere a sinistra Facendosi Che voi leggiate Una riga fatta bene E un macello Una riga fatta bene E un 3-4 lettere Mi raccomando Quindi prendete solo La pagina di riferimento Senza Diciamo Sporcare la scansione Con quella accanto Vi rifaccio Tutta la procedura Con una parte Un po' più semplice In modo che Vediate quando esce bene Perché Sembra così Che non funzioni Invece Devo dire che Il programmino Legge molto bene Allora Questa è Una parte scritta Più semplice Posso orientare La scrittura Come voglio Perché tanto Poi dopo me la giro Come mi pare Prima di stamparla Quindi faccio La mia foto Vediamo se adesso Ha scritto tutto quanto bene Ecco qui Come potete vedere Non ci sono errori Tranne se è persa Un apostrofo Ma vabbè Va più che bene Un'avventura Ha scritto Un'avventura Tutto attaccato Posso correggere Posso decidere La misura E posso mandare In stampa Quando avrò Completato Vedete Lo posso orientare Così Oppure così E questo è il risultato Fogliettino discreto Magari è utile Per appunto Prendere piccoli appunti Continuiamo Questa volta Vi faccio vedere Le to do list Cioè le liste Di cose da fare Sono carinissimi Potete usarlo Per la lista Della spesa Per i compiti Per l'organizzazione Ci sono un bel po' Di modelli A me me ne piacciono Tanti Vi faccio vedere Quali sono i miei preferiti Perché sono proprio Carini 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 Io odoro questo Aspettate che lo ritrovo Dov'è? Dove stai? Anche il pulcino È carino Questo Guardate che è l'artiglio La macchina dell'artiglio In miniatura Con dentro i bufazzini Si può scrivere Ovviamente dentro Adesso ve ne faccio vedere Anche un altro E ci scriviamo anche dentro Magari prendo Come ne so Un orzettino Il corgi Sì Mi sa che prendo il corgi Questo Potrebbe essere Una volpe Però per me È un cagnolino corgi Ci iscrivete Quello che volete In questo caso Io vi scrivo Iscrivetevi Al canale Perché così Magari se non l'avete già fatto Lo fate adesso Vero? Perché con questo video Mi sono impegnata un sacco Quindi merita Merita Di esserci La vostra iscrizione Tra gli altri Ok Una volta che ho scritto La mia lista Ovviamente posso fare Più punti Non è che devo farne uno solo Posso scriverne tanti Quanti ne entrano Nella bestiolina Ok Vado in stampa E guardate Come esce fuori La mia to-do list Ovviamente Io qui sto usando Carta normale Se lo fate Con la carta adesiva Potete poi Ritagliarlo E attaccarlo Sul vostro bullet journal Sul vostro diario Sul quaderno Dove volete voi Passiamo A un'altra funzione Queste sono le super note Allora Quest'app Fa una marea di cose Tra cui potete anche Registrare degli audio Non so l'utilità Rispetto ad altre app O registrare dei video Non lo so Vabbè È una feature Dell'app Poi ci sono questi Che sono appunto Tipo post-it Servono per fare le etichette Sono molto carini Si possono ritagliare Ovviamente all'interno Voi ci potete scrivere C'è una bella Invece il gatto Col culetto in evidenza Fa ridere Questo vedete Cioè ci sono delle Potete fare anche Dei file trasversali Anche molto lunghi Anche lunghi 20-30 cm Vi farà un foglio lunghissimo Con la vostra scritta Lunghissima E si possono fare Anche dei banner Come potete vedere Ci sono veramente Un sacco di Di funzioni Nell'app Mi sembra molto carina Anche abbastanza divertente C'è anche un servizio Di etichette Che è giù in basso Potete vedere Che ci sono delle etichette Già pronte Che potete però modificare Serve per Non lo so Per i libri Per i faldoni Per i quaderni Magari si dovete scrivere Le materie Mi sembra molto carino E questa era La stampantina carina Io sono innamorata Della robetta È veramente caruccia Ha dei punti Di utilizzo Veramente validi Per alcune cose Potrebbe essere Veramente una genialata E ditemi Cosa ne pensate Ovviamente Cercate di prenderla Quando c'è qualche offerta Perché così Riuscirete a pagarla meno Calcolate sempre Molto bene Che cosa comprende Il vostro pack Nel senso che A volte trovate Soltanto la macchinetta Con tipo Un solo rotolino E vi consiglio Sempre di prenderla Con una buona dotazione Di rotolini Così vi dureranno Per tanto tempo E non dovrete Ricomparare Soltanto quelli E considerate appunto Cosa vi danno Nel pack Perché a volte Sono più o meno Ricchi Basta Questo è quello Che vi dovevo dire Spero vi sia piaciuto Spero che anche il video Vi sia piaciuto Spero che vi avete messo like E spero di ritrovarvi In un altro video Perché vuol dire Che vi sarete iscritti Ciao